Nel cuore del circuito di Jerez, Johan Zarco si trova ad affrontare una sfida non da poco con la nuova Honda, modello che anche Joan Mir ha criticato per la sua mancanza di efficacia. Nonostante il test non abbia sortito i risultati sperati, Zarco affronta il percorso con una calma olimpica, consapevole che il lavoro da fare è ancora tanto. La Honda ha messo in campo notevoli sforzi per tornare a dominare la scena della MotoGP, ma, almeno per ora, questi tentativi sembrano essere stati vani. Ti ricordo che prima di andare avanti con il video di iscriverti al nostro canale, così da non perderti nessun aggiornamento sulla MotoGP, durante i recenti test a Jerez, Zarco, al pari di Mir, ha espresso perplessità sulle novità introdotte, confermando le impressioni già negative emerse durante il Gran Premio di Spagna. La nuova RC213V, testata originariamente da Stefan Bradl, non ha impressionato e Mir ha addirittura espresso sollievo per non doverla utilizzare, descrivendola come un passo nella direzione sbagliata. Zarco si è soffermato a lungo sulla nuova moto durante i test, ma i risultati non hanno rispettato le aspettative. Ho provato la moto di Bradl con diversi run, ma i commenti non sono stati super positivi. Solo alcuni aspetti erano migliorati, ma nel complesso non siamo riusciti a trovare il giusto ritmo. Non è ancora la moto che ci permette di fare un vero salto di qualità. Nonostante la delusione, Zarco non perde la speranza e affronta la situazione con serenità. È difficile trovare il giusto equilibrio per guadagnare un secondo a giro. Abbiamo provato diverse configurazioni, step by step, ma ancora non ci siamo. Tuttavia rimango fiducioso e credo che possiamo migliorare. Il francese, infine, sottolinea che insistere sulla nuova RC213V potrebbe non essere produttivo, riecheggiando le preoccupazioni dei suoi colleghi. Dovremmo forse mettere da parte questa moto per ora. Ho ripetuto lo stesso test fatto dai titolari a Barcellona, ma preferisco non entrare nei dettagli. È interessante vedere gli sforzi che stanno facendo, ma i risultati desiderati non sono ancora arrivati. La strada da percorrere rimane incerta e Zarco si mostra cauto nel fornire direttive al team di test, consapevole delle loro maggiori competenze e esperienze. Non è il mio ruolo dire a Honda come operare. Tutti abbiamo provato questa moto senza trovare il giusto feeling, ma il team di test potrebbe voler insistere. Rimango calmo, perché la vera sfida è mantenere la serenità in questi momenti. Questo atteggiamento riflette non solo la complessità tecnica di affinare una moto GP, ma anche la maturità con cui Zarco affronta questo periodo di transizione, rimanendo un punto di riferimento stabile per il suo team.